mi ha mandato un sacco di vestiti veramente uno più carino dell'altro con tutti questi dettagli colorati però questo mio preferito in assoluto amo queste roselline così ce ne sono tantissime di altri colori mi ha mandato due t-shirt una più carina dell'altra e poi questi qui che li ho portati stagione estiva sempre comodo uno shorts bianco carinissimo con questo dettaglio vi lascio lo suo epa così vi andate a vedere tutto nel dettaglio ciao ragazzi io sono appena rientrata metto bene mi faccio vedere niente perché sotto ho ancora il vestito delle prove generali distrutta però molto molto soddisfatta sarà anche un po' il calo di tensione quindi non penso adesso scenderò mi farò una tisana qualcosa così e mi sono fatta questo trucco che mi piace molto devo dire che queste ciglia finte sono le migliori in assoluto sono proprio imbattibili effetto molto molto naturale e ne ho messi tipo 300 le ciglia che ho usato sono queste mentre questa è la colla che ho preso da Sephora sotto consiglio di Mr.Dani devo dire che diventa completamente invisibile quindi anche se siete come me le prime armi è fatta è immaginibilissimo tutto devo dire che anche il make up nel complesso si è mantenuto molto bene ce l'ho da tutto il giorno poi qua situazione climatica proprio cambia da un secondo all'altro prima un sole che spacca le pietre poi in vento tremendo un freddo assurdo quindi si dai molto soddisfatta i capelli va bene eviterò di commentarli ma a parte queste informazioni che sicuramente vi svolteranno ormai la nottata io vi farò indietro spero che voi siate bene qua tutto alla grande tante tante cose da fare però sono sono molto soddisfatta iniziamo tra pochissimo manca sempre sempre meno si inizia a farsi sentire però va bene va bene così adesso mi vado a struccare è arrivato il momento e niente ci sentiamo domani a struccare a struccare